Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo noissimo video Oggi siamo su un launchpad Che può essere scaricato su qualunque telefono O ipad o tablet Questa app in questione si chiama Superpads Io mi ci sono trovato molto bene E' un launchpad a 12 pulsanti Come potete vedere qui Prima di iniziare voglio salutare Ricky Tam Che voleva essere salutato in un mio video E' anche un membro della mia crew Quindi passate al suo canale E niente Oggi vi mostrerò come suonare Animals E direi subito di iniziare Ve la farò sentire prima veloce Poi andrò con la lezione E direi subito di iniziare ok ragazzi ora passiamo alla vera e propria lezione quindi ve la farò sentire una volta veloce e poi una volta lenta su uno stesso pezzo lenta la seconda parte poi un altro pezzo bisogna ripeterlo per due volte però dovete prendere il tasto verde due volte e accompagnarlo con la musica insieme quindi siete in questa situazione dove dovete iniziare a suonare la musica e al secondo click del tasto verde unite insieme la musica quindi una volta aver premuto il pulsante azzurro si continua con lo stesso pezzo di prima quindi fate quindi possiamo ora la rifaccio alla velocità normale ora una volta spendo il pulsante azzurro bisogna premere l'altro pulsante così cioè ora ve lo faccio vedere veloce ok quindi premiamo questo ora ve lo tolgo per lavorare meglio tutta così poi qui riprimete una volta il primo e il verde poi si continuano sempre con la stessa musica quindi nel caso avete la musica accesa e poi si riaccende la musica e si rifà di nuovo il pezzo quindi ora io ho acceso la musica dato che doveva spegnerla però vabbè quindi ora io faccio tutto nel brano alla velocità normale allora E si riva di nuovo Ok ragazzi per questo video è tutto Volevo anche salutare Stefer23 Che volevo essere salutato nel mio video E vi ricordo di iscrivervi al canale Lasciate like e commentate sotto questo video Ok quindi noi ci rivediamo al prossimo video Ciao a tutti